C'è una situazione abbastanza interessante quella di vedere un'azienda che è da 150 anni che vive. Io ho partecipato alle celebrazioni dei 100 anni della Fiat, adesso i 150 degli tracciamenti. Mi auguro di partecipare non nella stessa posizione ma ai 200 anni delle generali, perché le generali siamo già a 180 anni. E effettivamente devo dire, ogni tanto mi pongo il problema un po' dell'azienda familiare, dell'azienda capitalistica pubblica e delle varie forme intermedie. Perché il primo punto è che secondo me è un mondo veramente molto vasto, come indicava il professor Corbetta. Che le aziende familiari sono facilmente così immaginabili, c'è una famiglia, ma cosa vuol dire avere una famiglia azionista? Cosa vuol dire avere una famiglia azionista ma anche che esprime il presidente dell'azienda? Cosa vuol dire una famiglia che esprime il presidente e che esprime l'amministratore delegato? Sono tutte forme molto diverse di aziende familiari con comportamenti e conseguenze diverse. Nel mondo dell'azienda pubblica anche lì abbiamo forme molto varie e non solo in Italia. Io più approfondisco i temi della Gornas più vedo che sono temi molto ampi che riguardano tutti i paesi. Ci sono aziende veramente public dove non c'è un azionista di riferimento di nessun genere. Ci sono aziende dove invece ci sono blocchi di riferimento, nel caso mio e nel caso che conosci bene il genere presente. Mediovanca certamente è un'azienda con un gruppo di azionisti, sindacati molto importante. Nel caso Telecom per esempio il gruppo di azionisti, che peraltro è destinato come sapete a sciogliersi rapidamente, è un gruppo di azionisti più piccolo e con obiettivi diversi. Nel caso generale abbiamo alcuni azionisti, ma non legati da nessun patto, tutto sommato molto sciolti. E poi altre aziende in cui lavorano, solo c'è Accorre, Generali in Francia, sono aziende con azionisti molto diffusi. Quindi effettivamente devo riconoscere che ho avuto un'esperienza, non sempre scelta proprio in maniera così programmata, ma devo dire, molto interessante, di tantissime categorie. Quindi è giusto porsi un po' la domanda, ma qual è, come mi sembra sia un po' il tema del convegno, qual è la tipologia di azienda che più risponde all'obiettivo di produrre risultati soddisfacenti, come chiedeva l'ingegnero presenti, e aggiungo io sostenibili nel tempo. Mi è difficile rispondere, ho sentito tanti commenti e in buona parte li condivido. Devo dire che vorrei fare solo alcune considerazioni, poi tocco anche il tema della gola in un attimo. Dunque, innanzitutto parlo da practitioner, non da teorico, quindi scusatemi se non farò delle dichiarazioni o dei ragionamenti molto sofisticati, ma io comincio a dire che sono stato molto soddisfatto di tutte le esperienze aziendali che ho vissuto. E non lo dico da buonista, cioè non è che lo dico per dire non voglio fare un torto all'ingegnere presente nel cui consiglio sono, all'avvocato Agnelli, o al signor Martin, che era il presidente della Saint-Gobain, o al presidente della Lavazza, in cui sono nel consiglio. Veramente sarò anche adattevole, ma trovo che tutte queste diverse situazioni aziendali hanno ovviamente situazioni di caratteristiche diverse, però sono tutte in fondo affascinanti e permettono di trarne alcune conclusioni. Allora, a parte appunto questo interesse ai diversi sistemi, una prima conclusione che mi sento di trarre oggi è che il mio giudizio è molto dipendente dal tempo in cui parlo. Oggi io vi farei e vi faccio alcune considerazioni che probabilmente 10-15 anni fa non avrei fatto. Non le avrei fatte in Italia, ma probabilmente non le avrei fatte neanche in Francia o in America dove ho lavorato. Nel senso che oggi io mi sento, e ovviamente parlo per grandi statistiche, quindi non pretendo di parlare per l'universo totale delle aziende, ma oggi io mi sento di dire che non conosco un'azienda nella quale io operi, che siano aziende familiari, Lavazza, che siano aziende pubbliche, generali, che siano aziende a controllo limitato, Telecom, che siano aziende con diverse forme di azionariato, non conosco un'azienda che non abbia chiarissimamente l'obiettivo fondamentale di creare valore, come si dice, per tutti i suoi azionisti e di far crescere i propri risultati e conseguentemente il proprio valore. E lo dico perché, adesso non voglio entrare in tanti dettagli, ma nella mia esperienza passata, e non farò nomi specifici, non credo che 15-20-30 anni fa avrei detto con la stessa sicurezza la stessa cosa. Cioè, molti anni fa, l'aspetto della difesa della continuità azionaria, per esempio, o la difesa di certe posizioni, diciamolo pure tra virgolette, di potere, poteva rappresentare, ha rappresentato nel modo in cui l'ho vissuto, in certi momenti un elemento, non dico necessariamente prioritario, ma molto importante nelle scelte che alcune di queste aziende facevano. Oggi io ritengo che sotto la spinta della globalizzazione, sotto la spinta della crescita, sotto la spinta della necessità, quindi, di competere seriamente con tutti e con tutto, perché oggi noi siamo, in tutti i business in cui mi ritrovo, contemporaneamente a considerare quello che fa il contadino cinese, quello che fa il minatore argentino, quello che fa il tecnologo americano, quindi siamo in una competizione globale. Oggi, semplicemente, a mio avviso, non ci si può più permettere di avere un obiettivo diverso da quello che ho dichiarato. Questo semplifica molto il discorso e lo rende anche molto più appassionante. Oggi siamo tutti impegnati a far crescere l'azienda, a far rendere di più l'azienda, possibilmente in maniera sostenibile. Questo permette anche di giudicare molto meglio il management. Poi c'è un fattore che il professor Corbetta anche ha toccato, ed è il fattore umano, diciamo. Sappiamo tutti che il successo di un'azienda dipende molto dalla qualità dei manager, e questo lo do per scontato. Insomma, è evidente che un bravo manager fa funzionare bene un'azienda, un cattivo manager non la fa funzionare. Ma parliamo di azionisti, parliamo di aziende familiari, parliamo di aziende pubbliche, quindi di azionisti istituzionali e così via. Bene, il fattore umano è molto rilevante. E qua io do un punto, obiettivamente, all'azienda familiare. Nel senso che, nella mia esperienza, quando ho lavorato, ma non so, alla Saint-Gobain, obiettivamente i miei rapporti erano con Roger Martin, con Roger Forou, grandissimi manager francesi, molto interessanti, molto validi, però erano rapporti molto freddi, assettici direi. Cioè si parlava del business dell'azienda, dei piani, dei budget, dei risultati. Devo dirvi, l'ho detto tante volte all'ingegner presenti, il rapporto con l'avvocato Agnelli o con Umberto Agnelli, con cui ho passato 25 anni della mia vita, beh, insomma, era obiettivamente una cosa un po' diversa. Io avevo l'abitudine, non per scelta mia, devo dire, ma per scelta loro, con Umberto Agnelli, tutte le mattine, alle 9 del mattino, quando arrivavo in ufficio, passavamo un quarto d'ora, mezz'ora insieme, prendendo un caffè. Ed era un momento straordinario, perché era un momento in cui si poteva discutere degli aspetti urgenti dell'azienda, ma si poteva anche spaziare su tutte le questioni dell'ambiente esterno, sia nazionale che internazionale, di cui erano i fratelli Agnelli estremamente interessati, e quindi cogliere tutta una serie di evoluzioni politiche, economiche, sociali, culturali, artistiche, che per me rappresentavano un'enorme aggiunta di valore poi nel mio lavoro e nella mia scelta quotidiana. Con l'avvocato succedeva invece molto di più spesso al mattino presto e soprattutto nei weekend, quando tendenzialmente si era andato a sciare, ma arrivava la telefonata classica, che cosa c'era da fare, ovviamente anche se avevo un altro programma, non c'era niente da fare, quindi andavo a fare queste chiaccarate. E devo dire che anche lì era interessantissimo passare dei grandi problemi aziendali ai problemi profondi, delle successioni a livello anche proprio delle famiglie, ai discorsi legati al momento politico, alle persone che avevo incontrato. Quindi indubbiamente in un'azienda familiare avere un interlocutore di quella qualità, di quella continuità, di quella sfaccettatura intellettuale, e credo che Gianni abbia anche lui vissuto in parte questa esperienza, insomma è un addition che nessuna azienda, diciamo, public, dove trovi il miglior manager della terra riesce a fare, senza nulla togliere peraltro a tanti esponenti di famiglie o di istituzioni che poi ho incontrato in maniera analoga nei consigli della Mediobanca, della Telecom, delle Generali. Quindi l'aspetto, diciamo, di durabilità e di continuità e di cultura e di apertura al mondo che possono avere certi capostipiti familiari, francamente è difficile ritrovarlo uguale in manager che magari sono stratosfericamente capaci, sono di grandissimo successo economico. E vi dirò di più, sempre un po' per l'aspetto umano della questione, io ricordo che quando ero alla Fiat mi capitava di andare in giro per il mondo, soprattutto nei tempi 25-30 anni fa, e ho apprezzato cosa vuol dire avere un proprietario di un'azienda che è un leader oltre ad essere un uomo. Cito sempre un caso che mi colpì, appena arrivato alla Fiat veni mandato nel 77-78, veni mandato in Sud America perché stavano succedendo grandi pasticci in alcuni paesi, in particolare in Bolivia, stavano creando una contestazione alla presenza della Fiat in quel paese, arrivo lì, ero appena entrato alla Fiat, molto poco esperto, mi trovo in una piazza davanti a una pila di trattori Fiat pronti per essere messi all'arogo e francamente non sapevo bene che precipigliare. Quando a un certo punto spunta un signore incredibile, abbastanza rozzo come aspetto, si piazza davanti a stafare qua, davanti a questi dimostranti che vengono a piccare fuoco e col suo corpo fisico impedisce a questa gente di appiccare fuoco. Io rimango veramente esterefatto, dico, ma chi è sto qua? Cosa combina? Gli parlo e lui dice, guardi, il dottor Gratteri non mi conosce, io mi chiamo come dottor Sclaverano, io sono qua e difendo questi trattori perché due anni fa l'avvocato Agnelli passò di qua e mi affidò la presenza della Fiat in questo paese. Io non lascerò la Fiat essere attaccata nel paese e non la lascerò abbandonare il paese. E io capì allora cosa voleva dire all'epoca il rapporto del management o della gente che lavora in un'azienda quando riesce ad avere un capo, lo identifichi, lo conosci, un capo che ci ha messo la faccia, un capo che ci ha messo i soldi, un capo che ci ha messo tutto il suo sforzo ed è pronto probabilmente anche lui a dare la vita per un'azienda. Quindi l'aspetto umano è molto importante. Però l'aspetto vero su cui mi sollecitava Gianni e che alla fine, proprio in relazione a questo convegno ho un po' estratto dalla riflessione delle mie esperienze, quando mi sono detto ma qual è di queste aziende in cui ho vissuto la Sangoban, la Fiat, Mediobanca, la Telecom, la Razz e tante altre, l'Azimus, Benetti e così via, qual è l'elemento su cui potrei dire una è meglio dell'altra in funzione dei risultati che ho visto raggiungere e che vedo raggiungere. Ed effettivamente la mia risposta è la governance. Ora non è perché sono anche il presidente del comitato di governance della Borsa di cui fa parte l'illustre Carlo Pesenti, ma veramente l'unica cosa che riesco a individuare che può essere tale da garantire, diciamo meglio, è necessario, anche se non è necessario sufficiente, a far funzionare bene un'azienda familiare o un'azienda pubblica, un'azienda a controllo limitato o un'azienda a controllo diffuso, è il fatto, intendendo per governance qualcosa di abbastanza più completo e complesso di quello semplicemente, diciamo, magari prima accennato inevitabilmente da professora Corbetta, governance intesa come strumenti, principi, regole che fanno funzionare l'azienda che partono dalla composizione del Consiglio, presenza di indipendenti, come avete accennato, presenza di membri non della famiglia o della famiglia, e scendono attraverso i rami funzionamento dei comitati, funzionamento dei rapporti tra le varie istituzioni interne, area dei controlli. Io sono molto ammirato, devo dire, quando vedo aziende familiari che sono molto più avanti nell'applicazione delle regole della governance rispetto a molte aziende quotate. E mi fa piacere di vederlo perché capisco che hanno anche loro capito che questo tipo di impostazione, di organizzazione, non è soltanto per far piacere al codice di autodisciplina, alla Consob, all'Ivas o alla Banca d'Italia, è perché è fondamentale. E se vogliamo parlare soprattutto di risultati non solo soddisfacenti, ma anche sostenibili, credo che questo aspetto sia assolutamente ineluttabile. Non so se magari c'è un secondo round dove poi posso spiegare un pochino meglio che cos'è questo discorso e soprattutto farne vedere anche lì l'evoluzione perché devo dire che in questo senso l'Italia è un paese assolutamente best in class. E ora Davos l'altro ieri incontravo e chiudo con questo il presidente di Barclays che è questo David Walker, autore di uno dei più importanti codici di autodisciplina che ci sono in giro in Europa in questo periodo. Gli ho dato i nostri documenti dell'ultimo rapporto approvato in dicembre sul monitoring dell'autodisciplina, l'ha letto, mi ha detto Gabriele siete veramente best in class. Vorrei continuare a lavorare insieme a te, insieme a voi per portare avanti anche in Inghilterra i temi della governance. di un'autodisciplina, a te, insieme a voi in un'autodisciplina, a te, insieme a voi per portare avanti anche in Grazie a tutti